Oggi presentiamo i programmi del primo semestre, ci sarà un incontro sulla moda e la letteratura e quindi ci sarà la presentazione di un libro che racconta di una donna che da Venezia va ad Istanbul e accanto a questo romanzo ci sarà un'esposizione di abiti da Venezia ad Istanbul quindi è anche questo, come dicevo, c'è sempre un collegamento tra il costume e la cultura Il 3 marzo, venerdì prossimo, ci sarà l'apertura della mostra sugli abiti di Frida Kahlo Saranno abiti che sono proprio appartenuti alla Frida Kahlo Lo faremo proprio per il marzo donna perché ha rappresentato l'emblema dell'emancipazione femminile una storia particolare che tutti conosciamo e questa sarà una mostra particolare, interessante e quindi poi seguirà anche un intermezzo musicale con musiche messicane Sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti In questo momento noi siamo nei nuovi spazi allestiti dalla Fondazione Mondragone e abbiamo intenzione di dedicare una sezione al sacro La moda secondo me è al centro in Italia in particolare e al centro dell'economia è importantissima, la moda sta vivendo un momento di grande, io amo dire proprio di avanguardia perché c'è una, oltre che nella scelta dei modelli, anche nella scelta dei tessuti Siamo tutti, si è proiettati verso una scelta e uno studio su nuovi tessuti che siano ecosostenibili e quindi la moda è molto attenta alla tutela dell'ambiente e del nostro pianeta E' importante che le istituzioni abbiano uno sguardo rivolto verso questo comparto E' importante che le istituzione di un'ambiente e del nostro pianeta